Qui vi presentiamo le 5 migliori spazzole per gatti. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Belisi 7 e letatura cani, gatti 7 di 2. Mille grazie a questa collezione, governare il tuo gatto è un gioco da ragazzi. Consiste in un pennello per felini e animali domestici, con il quale il sottopelo può essere rimosso facilmente e anche un pettine a doppia mano per finire la cura di tutti gli strati di capelli. I puntatori disperdono gli oli sui capelli e stimolano il flusso sanguigno della pelle del tuo. Passando al numero 4. Lalla, guanto magico per mano destra. Copertura per Antwerp Card in biomagica per una terapia efficiente e lieve dell'eliminazione dei capelli morti dai capelli di canini e gatti. Il tuo animale domestico si divertirà a essere passato con il guanto a pennello. I peli rimangono nella copertina dell'abbigliamento per le mani. Sono molto facili da eliminare e anche sbarazzarsi dopo aver pulito felini e anche cani. Impacchetta con un guanto adatto al destra. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Navaris Spazzola de Shedding Cani e Gatti. Adatto per gatti domestici corti e a pelo lungo, consente la rimozione dei capelli morti senza danneggiare il sottopelo. Diminuisce la quantità di perdita completamente naturale e fornisce ai capelli dell'animale domestico di famiglia una nuova lucentezza. Si consiglia di utilizzare il carder una o due volte a settimana utilizzato frequentemente aumenta la circolazione e migliora la salute e l'aspetto dei capelli. La pulizia del pettine viene eseguita premendo il pulsante integrato. Almost at the top of our list at number 2. Freddott Guanto Spazzola per Cani e Gatto. Il guanto con mode è una scelta eccezionale per il pennello e consente anche di raggiungere anche uno dei fattori più fragili dell'animale. Questa cobertina per anna per ha una doppia caratteristica. La parte in gomma popolata si appropria di spazzolare il mantello del gatto e anche di sbarazzarsi dei capelli morti. E infine il numero 1 della nostra lista. Strumento standard per il deshading del sottopelo per gatti. Riduce al minimo la perdita di capelli di circa il 90%, un risultato migliore rispetto ai normali pennelli o pettine. I denti in acciaio inossidabile permeano in profondità direttamente nello strato dell'animale domestico di famiglia, eliminando delicatamente il sottopelo in eccesso e anche i capelli morti. Basta premere il pulsante corretto per pulire facilmente il pettine. Creato da esperti di toilettatura, per risultati di alto livello e per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più, iscriviti al nostro canale.